buongiorno a tutti siamo in collegamento con la professoressa evelina chiocca insegnante e soprattutto presidente del coordinamento italiano insegnanti di sostegno e con lei parliamo della vicenda del decreto ministeriale e del nuovo modello di pay come sappiamo nella giornata del lunedì 19 l'osservatorio nazionale sull'inclusione si è nuovamente riunito con i tecnici del ministero per esaminare la proposta di modifica al decreto 182 che il ministero ha formulato dopo la lunga e complessa vicenda che ha visto anche entrare in gioco il tar e il consiglio di stato qual è la situazione in questo momento la situazione è che a quanto pare a stando alle notizie che ci stanno arrivando il decreto ministeriale che è stato un po tra virgolette anche contestato dallo stesso consiglio di stato poi spiegheremo meglio in che termini e perché il decreto ministeriale dice il ministero rimarrà sostanzialmente intatto e anche i modelli di pay che ne conseguono che ne derivano rimarranno più o meno gli stessi quindi a questo punto questa è la situazione che cosa potranno e dovranno fare le scuole a partire da domani mattina come si dovranno regolare per compilare il pay ecco di questo parliamo con evelina chiocca allora cominciamo dal primo punto secondo te cosa cosa devono fare le scuole a partire da domani anzi da oggi o meglio per essere più precisi dal momento in cui avremo ufficialmente in mano il testo del decreto ministeriale con quelle piccole correzioni che a quanto pare dovrebbero essere introdotte a te la parola evelina grazie intanto buongiorno a tutti e ma io direi anche forse qualcosa di più nel senso che a mio avviso questi leggeri ritocchi forse sono qualcosa di più del leggero ritocco perché tra le indiscrezioni che arrivano via la cancellazione ricordiamolo dell'esonero che è una misura molto controversa e sulla quale noi ci siamo anche molto battuti proprio perché riteniamo che sia lesiva del diritto allo studio del degli alunni con disabilità quindi una cancellazione di questo tipo voglio dire è una cancellazione molto importante vuol dire che il ministero ha ascoltato quelle che sono le ragioni che sono arrivate purtroppo attraverso il tar del lazio mentre sarebbero dovute arrivare attraverso altre realtà con le quali il ministero è strettamente a contatto andando alla questione fermati un attimo ecco fermo un attimo evelina allora giusto per ricordare le vicende a chi non le conosce nel dettaglio la situazione è questa alla fine del 2020 viene emanato il decreto ministeriale 182 alcune associazioni impugnano questo decreto e davanti al tarlazio e il tarlazio dà ragione a queste associazioni a questo punto il ministero ricorre al consiglio di stato come è possibile secondo la normativa e il consiglio di stato che cosa dice dice no le associazioni non hanno ragione cioè il decreto ministeriale è assolutamente legittimo perché il ministero ha agito secondo le regole e quindi il decreto è va bene legittimo se non che dice il consiglio di stato attenzione però questo decreto e questi modelli una volta applicati potrebbero dare origine a delle lesioni di diritti di interessi legittimi delle famiglie degli alunni e quindi attenzione perché questo decreto e questi pay potrebbero comunque dare origine a ricorsi da parte delle famiglie e il consiglio di stato non lo dice palesemente ma lo fa capire abbastanza chiaramente tutto sommato fate attenzione perché queste famiglie facendo un ricorso individuale presso il tar potrebbero ottenere ragione dalla giustizia amministrativa uno dei motivi uno dei motivi come dire più controversi una delle questioni più controverse è proprio quella dell'esonero di cui tu hai fatto cenno ecco vuoi spiegarla in tre parole cioè cosa intendiamo quando parliamo di esonero beh quando parliamo di esonero significa che l'alunno di fatto non è più alunno di quel docente facciamo un esempio pratico il docente di filosofia l'esonero secondo il 182 doveva essere stabilito dal consiglio di classe e non dal singolo docente o dal team docente e essere esonerati significa che quell'insegnante non è più tuo insegnante tu ovviamente durante quell'ora non sei all'interno della classe non sei con i tuoi compagni e per te vengono attivate delle attività differenti cioè delle attività che vengono chiamate differenziate ma al di fuori del contesto classe ora proviamo a immaginare 20 classi di un istituto dove vengono esonerati più studenti e parliamo di studenti con disabilità questi dove possono recarsi e andremo a ricostituire una condizione sicuramente non non possibile non non coerente non conciliabile con una scuola dell'inclusione senti evelina e stando sempre alle indiscrezioni che abbiamo in questo momento il lesonero viene cancellato e che con che cosa viene sostituito è la questione che a mio parere doveva essere cancellato punto e basta non si capisce perché ma le indiscrezioni ci dicono che si tratterebbe di attività laboratoriali ora con la didattica laboratoriale noi andiamo a braccetto perché è una delle espressioni più alte della didattica inclusiva quindi nulla da eccipire al riguardo no però prevedere a priori l'uscita dalla classe così da decreto mi sembra una cosa alquanto paradossale per morestando che sono i singoli consigli di classe i singoli team docenti che valutano caso per caso se vi è necessità di un intervento individualizzato e se ci sono attività di tipo laboratoriale queste devono necessariamente coinvolgere tutto il gruppo classe perché altrimenti ci ritorniamo ci ritroviamo in una situazione dove cambiamo il nome cambiamo l'etichetta ma la condizione è la stessa ecco vorrei sottolineare questo aspetto perché molto spesso noi che abbiamo come dire partecipato attivamente contro questi aspetti che ledono il diritto allo studio degli alunni con disabilità siamo stati un po' accusati di non pensare che ci possono essere anche interventi individualizzati siamo insegnanti siamo consapevoli che per alcune situazioni e per alcuni momenti della vita scolastica possano essere necessari interventi individualizzati che ricordo possono essere effettuati all'interno della classe come possono essere previsti anche all'esterno della classe qual è la differenza sostanziale che rientrano e devono rientrare in una progettualità che deve essere descritta all'interno del piano educativo individualizzato perché perché fanno parte di un percorso e non perché sono estemporanei momenti non sono della serie prendilo e portatelo fuori che purtroppo a me accade nelle nostre scuole no noi pensiamo a un discorso di progettualità rispettoso della unicità della persona senti evelina a proposito di questo prendilo e portalo fuori dalla classe che come dici tu purtroppo avviene ancora in diverse circostanze ma perché secondo te questo accade eppure questa modalità è esclusa non da oggi ma da tempo dal dal progetto di inclusione cioè da anni che il ministero stesso continua a dire e a scrivere anche in atti in documenti ufficiali che l'inclusione deve avvenire in classe come mai continua ad esserci questa tendenza se mi permetto di fare un'osservazione poi tu mi correggerai se sbaglio se la mia interpretazione è sbagliata c'è forse anche una non completa formazione dei docenti sul tema oppure i problemi sono di altro genere allora ricordo anche le linee guida ministeriali del 2009 nelle quali per l'appunto si stigmatizza la questione laboratorio riservato ai soli alunni con disabilità e quindi almeno per coerenza quando bisogna come dire tener presente questo è una questione culturale da un lato e dall'altro lato che poi in realtà non sono separati ma come dire vanno insieme è proprio legato alla formazione del personale docente detto questo si è insinuato proprio anche per mancanza della formazione questa idea che quella luna appartenga all'insegnante che viene caricato sul posto di sostegno la formazione del personale docente dovrebbe responsabilizzare i docenti sul fatto che quell'alunno è uno dei loro alunni e che hanno la responsabilità di insegnare a quell'alunno ma peraltro contrattualmente questo è già scritto tra l'altro c'è un'altra questione controversa ed è legata alle competenze professionali il docente specializzato viene formato sulla didattica inclusiva e sulle didattiche inclusive il docente incaricato sul posto disciplinare mi riferisco al docente che non ha questo tipo di competenza si trova dinanzi un collega con il quale non riesce a come dire a confrontarsi e mentre il collega specializzato dice utilizziamo l'apprendimento cooperativo l'universal design for learning cioè apriamoci a queste forme a queste metodologie che coinvolgono gli alunni tutti gli alunni eccetera questo gli risponde adesso ci sono io quando ci sarei tu farei tu e capisci che così non si va avanti e questo questo era quello su cui doveva intervenire il ministero perché il piano educativo individualizzato dammi qualche spunto qualche feedback qualcosa assolutamente cerchiamo di uniformare a livello nazionale assolutamente c'è alcune dritte ci stavano no considerato che il nostro modello risale al 1994 quello che era legato appunto al dpr del 24 febbraio ci sta ma questi aspetti che dovrebbero essere quelli maggiormente curati maggior perché la formazione del personale docente consente di la realizzazione di una scuola di qualità allora ritorniamo appunto sul sulla questione che da domani mattina anzi forse già da oggi gli insegnanti di tutta italia hanno allora come ci regoliamo a questo punto con la redazione con la stesura del pay posto che ovviamente dobbiamo aspettare gli atti ufficiali ma ormai la strada sembra abbastanza segnata tu quali suggerimenti daresti allora io direi dal primo giorno di scuola mi sembra il 6 settembre a bolzano il 12 settembre in altre regioni il 14 in altre e si sta chiudendo l'avvio in tutte le regioni per l'apertura del anno scolastico nel senso che ovviamente c'è bisogno che arrivino le indicazioni da parte del ministero ma questo non sottrae i docenti alla loro responsabilità di andare a definire un percorso progettuale quindi di andare a definire un pay a favore degli alunni con disabilità quindi da subito e le prime azioni che vengono messe in campo sono quelle dell'osservazione della raccolta delle informazioni quindi ci si rivolge ai genitori per acquisire degli elementi di conoscenza in merito al figlio si fanno delle osservazioni noi le chiamiamo sistematiche nelle realtà sono parasistematiche perché sono osservazioni che vengono effettuati durante l'attività lavorativa e sappiamo che l'osservazione se è sistematica è dedicata e questo ovviamente non è possibile quindi partiamo con questo raccogliamo quelli che sono gli elementi e cominciamo a costruire tutti quei tasselli che ci permettano di mettere in evidenza io adesso vi do delle parole chiave che sono culturalmente all'interno di una impostazione richiamiamo costantemente io la chiamo impostazione culturale cf in realtà guardate che questa impostazione culturalmente nella nostra scuola è presente si può dire da dopo il 1992 perché diciamo che era già insita nelle attenzioni nel raccogliere quelli che sono gli elementi di conoscenza dell'alunno allora che cosa andiamo a definire le capacità dell'alunno le potenzialità dell'alunno gli interessi le attitudini le dinamiche comportamentali le dinamiche relazionali all'interno del contesto classe c'è tutti quegli elementi che davvero mi consentono di acquisire delle informazioni rispetto alle quali poi potremmo andare a definire degli obiettivi di apprendimento coerenti perché mettere in evidenza le capacità io faccio sempre la metafora del frigorifero quando parlo con i miei studenti e dico sempre se noi apriamo il frigorifero pensando che il marito la moglie il compagno con le penso ma abbia fatto la spesa e la spesa non l'ha fatta e noi attendiamo persone a cena quella sera e guardiamo e vediamo due ciupi di insalata due uova un pomodoro è proprio la prima espressione che ci viene e non c'è niente lo chiudiamo e sconsolati non sappiamo cosa fare per molestando che abbiamo sempre la nostra dispensa basi che è come dire ci supporta in ogni caso dobbiamo imparare a guardare con occhi diversi aprire il frigorifero e fare l'elenco di quello che è presente e con quello che è presente predisporre la scena ecco è questo l'approccio che bisogna avere quando guarda l'alunno che cosa è capace di fare sposta gli occhi muove il dito cioè cogliere quegli elementi rispetto ai quali poi posso costruire questo ci obbliga anche a uscire da una logica nella definizione degli obiettivi di apprendimento che di tipo quantitativo ma ci rimanda a quella dimensione qualitativa e di riconoscimento questo è il passaggio fondamentale di unicità della persona senti veniamo ad un'altra questione molto importante che è la questione dell'orario ecco vuoi dire due parole su questo e poi chiudiamo d'accordo io la chiamerei il paradosso dell'orario perché con il 182 viene formalizzata la possibilità della riduzione dell'orario scolastico che ricordo in base alla legge 104 articolo 12 commi 3 e 4 come dire via contrasto perché non possono essere adesso riprendo in parte la norma le difficoltà di apprendimento a impedire la frequenza ora qualcuno potrebbe dire guarda che non sono le difficoltà di apprendimento ma sono le terapie e le riabilitazioni eccetera eccetera allora io ricordo che non abbiamo bisogno di cioè se è vero che riguarda le terapie i motivi di salute noi non abbiamo bisogno di una cosa di questo è totalmente illogica primo condizioni di salute esiste il servizio di istruzione domiciliare lo abbiamo dimenticato c'è ricorriamoci e poi per il resto c'è la questione che riguarda la cosiddetta validità dell'anno scolastico per la secondaria di primo e di secondo grado ma non per gli altri ordini di scuola quindi adesso faccio un attimo lo specchietto scuola dell'infanzia non c'è obbligo di frequenza non c'è come dire nessun vincolo il bambino deve andare a fare terapia deve andare a fare riabilitazione quello che deve fare quel giorno non va a scuola e il genitore presenterà una giustifica rispetto al fatto oppure dirà che il bambino non va a scuola e la questione si chiude scuola primaria c'è l'obbligo di frequenza ma non esiste un vincolo di giorni di frequenza quindi se devi fare terapia o quant'altro come tutti gli altri genitori che tengono il bambino a casa perché non sta bene o quant'altro presenti la tua giustifica e la questione si chiude secondaria di primo e di secondo grado c'è il vincolo c'è l'obbligo di frequenza fino a 16 anni per il secondo grado e c'è però il vincolo della validità dell'anno scolastico che è legato al numero di giorni di frequenza la normativa vigente prevede non solo per gli alunni con disabilità ma per tutti gli alunni della scuola italiana la possibilità di ricorrere a delle deroghe proprio per motivi di riabilitazione per motivi di salute per terapia e quant'altro quindi non è qualcosa di nuovo c'è esiste sono diciamo misure presenti a tutela del diritto allo studio degli alunni con disabilità degli alunni perché in questo caso vale per tutti e in questo caso ovviamente la famiglia deve presentare una giustificazione di queste assenze il collegio docenti e come dire delibera delle specifiche deroghe sulla base della normativa vigente e la questione della riduzione per questi motivi veramente crolla da sola cioè non ha motivo di essere quindi non capisco l'insistere su questa misura mi pare che con questo concludiamo bene questa nostra gradevole chiacchierata ovviamente a questo punto non ci resta che aspettare l'uscita del decreto definitivo con i definitivi modelli di pay che ripeto comunque da quanto abbiamo capito non dovrebbero variare moltissimo evelina però ci ha fatto presente che alcune cose importanti potrebbero anche esserci anzi ha anche citato un aspetto che lei che il suo coordinamento considera importante evelina qual è? è quella dell'esonero ovviamente che dalle indiscrezioni pare che sia stato proprio recepito da parte del ministero e sia cancellato e quindi stiamo attenti quando esce il decreto 182 a come è scritta questa come sarà scritta questa parte relativa all'esonero per capire esattamente se c'è un miglioramento rispetto al testo precedente oppure no ringraziamo ancora evelina chiocche ringraziamo tutti voi buona giornata buon lavoro e anche buona osservazione perché come ci ha ricordato evelina in questi giorni cogliamo proprio l'occasione per fare molta osservazione all'interno delle classi molta osservazione di come i nostri alunni si pongono all'interno della classe e rispetto alle proposte didattiche che noi facciamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti